Ciao bambini! Oggi vi faccio vedere un'attività semplice semplice da poter fare con delle cose che avete di solito in casa, come una spugnetta. Vedete, io ho preso una spugnetta vecchia, ho messo un elastico intorno, questa è una di quelle che si usano per lavare i piatti, vi fate aiutare semmai dai grandi, mettete un elastico al centro o un laccetto, uno spago, quello che volete e poi intingete nella pittura. Poi fate pressione su un foglio, se non avete la pittura in casa potete anche chiedere un pochino di passata di pomodoro o il ketchup e potete avere lo stesso l'effetto del colore, in questo caso rosso. Dopodiché facciamo la testa, il corpo, per far diventare questi bellissimi fiocchi delle farfalle. Prendiamo gli acquerelli, facciamo il cielo, se non avete gli acquerelli vanno bene i pennarelli, i pastelli, i colori a cera, quello che avete. Io faccio solo un pezzo, se no poi ci vuole troppo tempo, comunque riempite tutti gli spazi e poi dai grandi vi fate scrivere e poi torneremo a volare. Ecco qua. Vedete bambini? Come le farfalle che tornano a volare in primavera, anche voi bambini al più presto potrete giocare liberi e felici e potrete tornare a scuola. Ok bimbi? Vi aspetto e alla prossima. Intanto fate queste belle farfalle. Baci! Come ici!